Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi torniamo qua con Ratchet & Clank Rift Apart per un nuovo episodio. Mettiamoci in nave e partiamo. Allora, in teoria questo è facoltativo, ok, questo fatto. E ci manca questo, costruisci il dimensionatore. Oh, finalmente si incontrano quindi. Eccolo qua, il bolt d'oro. Perfetto. Poi, qua abbiamo fatto tutto, torniamo indietro. Allora, a destra c'è qualcosa? In realtà sì. Facoltativa. Con calma. Perfetto. Perfetto. E ora? Non c'è nient'altro? Ah, forse questa l'abbiamo già fatta in realtà, eh. Infatti mi ricordavo qualcosa di molto simile. Mi sa che l'abbiamo già fatta. Che pirla che sono. Quindi quel bolt non l'avevo trovato. E infatti, 2 su 3, 3 su 5, 0 su 2. L'avevo già fatta, l'avevo già fatta. E... Ah, abbiamo roba nuova? Minchia, 30.000 costa. Prima che ci arrivo... Ne passa di tempo. Eh, se volessi potenziare tutte le armi sarebbe molto lungo questo gioco, eh. Non so se lo farò. L'idea era di farlo. Però sinceramente non ne ho idea. Perché... Va veramente a durare tanto. Ok. Ma c'è qualcosa. Eh, andiamo. Cos'è? Ah. Perfetto. Lo spia bot, 6 su 10. Me ne mancano solamente 4, eh. Intanto mi ha sbloccato. Un fuoricampo. I nemici sconfitti in misca vengono lanciati a distanza siderale. No, scusate, ho sbagliato. E poi c'era l'ultimo che è questo, vero? No, è questo, scusate. No, sbagliato. Vabbè. Me l'ho sbagliato. Ok. Andiamo qua dentro. Ok. Cos'è? Oh, no, sto bene, Ratchet Ti dirò, comincia a piacermi il mio nuovo look Per la cronaca l'ho trovata già così Tranquilla, so che non l'hai ferito tu E in fondo tu sei me, giusto? E se invece fossi tu a essere me? Oh, non scherziamo Non sai che dire? Sì, esatto Scusa, Rivet, lei è... Kit, è un piacere poterti conoscere Piacere è mio È il momento di risolvere questo guaio Eh, direi, direi Eh, giustamente, io mi piglio Clank Oh, cazzo Ma... Ma no Grazie Dottor Nefarius Questa dimensione vuole proprio viziarvi Tutti i miei nemici si consegnano spontaneamente Quante volte l'hai già sconfitto? Non abbastanza Posso provare? Accomodati No, ma che figo Che figata Ahia Il cavi è pochissimo Un'altra Lombax Fortuna che non perdo mai in questa dimensione Questo è tutto da vedere Insomma, intanto Stai già perdendo Oh, cazzarola Sì, sì Benissimo Benissimo, insomma Nuo livello Tre Aia Vabbè, dai È fattibilissimo Ancora No In realtà no Bella Nuo livello Tre Allora Mi tocca fare per forza Allora 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 Qualche Ecco Questo Allora 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 Se no Oh, cavolo Che l'ammazzo Anche perché tutte le cose che ho sono a distanza Cioè A distanza ravvicinata O meglio Cioè Cioè Nuo livello Nuo livello Quattro Quattro Allora 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 Calma Parafulmine Non c'ha finito Non c'ha finito Le munizioni Qua Ma se io posso ribattere con questo A bello Addios Mi sa che leggermente è andato anche in questa dimensione Poverini Ma che è sto buio Ancora Wow Che battaglia Non vi state divertendo? Coraggio Un bel applauso per Rivet E la sua prima vittoria Avrei voluto Potervi raggiungere prima Tuttavia Sono lieto Di annunciare che ho Smaltito I miei nemici Con l'eccezione di Capitan Quantum E di Comunque Quando ho saputo che La Lombax ribelle Voleva sfidare me Io non ho potuto Perderti la festa per celebrare la tua sconfitta? Chi è che festeggia? Intendi loro? No Aspetta Io combatto i ribelli da anni So esattamente come farli fuori Questo strano ammiratore vuole aiutarmi? Intrigante Potremmo movimentare le cose Ti aspetto a casa No Ah minchia 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 Di affrontare l'imperatore Dobbiamo procurarci tutte le risorse possibili Hai ragione Dovremmo fare un salto all'arena Prima di andarcene Ah la fantastica arena Di cui si parlava Allora Visto che Non voglio rompervi le scatole Con l'arena Me la faccio Telecamere spente Questo video durerà un po' di meno E Ci becchiamo alla prossima Con forse In teoria Il finale del gioco In teoria Speriamo bene Nel senso che Sembrerebbe che Siamo verso il finale Ma non lo so Con certezza E niente Quindi è tutto per oggi Noi ci becchiamo Alla prossima E ciao ragazzi